Bene, abbiamo visto la volta scorsa la spinta di Archimede e abbiamo visto che è legata essenzialmente alla dipendenza che c'è tra la pressione in un fluido e la quota di profondità. Questo in realtà è il vero principio di Archimede. Quello che viene proposto come principio di Archimede nei livelli di testo, cioè il fatto che un corpo immerso viene spinto verso l'alto, in realtà Archimede nel suo trattato sui balleggianti lo dimostra. L'enunciato del principio di Archimede originale nel suo testo è una porzione di fluido viene compressa da quanto è la quota nella quale è immerso, è legata alla profondità alla quale è immerso, che è quello che noi chiamiamo legge di Stevino. Vi assumo brevemente quanto abbiamo visto la volta scorsa, se immaginate di avere un contenitore di liquido, disegniamolo pure in blu, e immergiamo un cubo all'interno del nostro liquido, abbiamo pressioni diverse sulla faccia superiore e sulla faccia inferiore. Sulla faccia superiore abbiamo una forza, se chiamiamola S, legata al prodotto tra l'area del nostro cubo, che è L quadro, se il lato è L, per la pressione che agisce sulla faccia superiore. Sulla faccia inferiore c'è un'altra forza, chiamiamola Fi, sulla faccia inferiore, che è legata a, per definizione di pressione, quindi forza è uguale a pressione per superficie, anche questo è L quadro per la pressione sulla faccia inferiore, mentre le due facce laterali subiscono forze identiche perché sono alla stessa quota. Le due forze, la forza sulla faccia superiore, è inferiore a quella sulla faccia inferiore, a causa del fatto che la pressione cresce con la profondità. L'ho visto la volta scorsa che la pressione dipende dalla quota secondo la legge seguente. Abbiamo la densità del liquido, io uso di solito il simbolo Rho, c'è una lettera greca che significa R, per G, il rapporto tra forza e massa, tra peso e massa, per H. Queste conseguenze del fatto che su ogni strato di liquido agisce il peso del liquido che gli sta sopra, in verticale. Quindi sulla faccia superiore, chiamiamola, per usare un colore diverso, a questo livello, abbiamo la quota della faccia superiore, qui abbiamo la quota della faccia inferiore. La differenza di quota sarà il lato del nostro cubo, che è L. Quindi la differenza tra le due forze, la forza che agisce sulla faccia inferiore meno quella che agisce sulla faccia superiore, viene denominata spinta o forza di Archimede. E siccome la forza sulla faccia superiore è più piccola, la forza diretta verso l'alto è più grande di quella diretta verso il basso, in tutto, in totale, abbiamo una forza netta che spinge il nostro corpo verso l'alto, chiamiamo spinta di Archimede, che è opposta al peso. Il peso lo tira verso il basso, la forza di Archimede lo spinge verso l'alto. Quanto è questo valore? Abbiamo visto, rilavoriamo algebricamente questa espressione, la forza della Archimede vale la forza sulla faccia inferiore, che viene quindi la pressione sulla faccia inferiore per L quadro, meno quella sulla faccia superiore per L quadro, sempre. Non ho fatto altro che sostituire questa espressione, questa e questa. E quindi, al posto della pressione sulla faccia inferiore, scriveremo che cosa? La densità, densità del liquido. Per G, per la quota a quale si trova questa faccia, per in questo punto L quadro, meno la stessa grandezza calcolata sulla faccia superiore, densità del liquido, G, la quota della faccia superiore, sempre per L quadro. E' chiaro che, da qui della figura dovrebbe essere abbastanza evidente, che la differenza tra le due quote è L, quindi la differenza tra questa grandezza e questa grandezza è L. Le due parti comuni sono identiche, quindi queste posso scriverle come densità del liquido per G per L alla seconda per HI meno HS. S, ma questo vale di nuovo L, ok? Qui ho usato quello che si chiama raccoglimento fattor comune, che è in algebra, vedremo un pochetto più avanti. Comunque è abbastanza evidente che se io svolgo questo prodotto, ottengo questa espressione. Infatti ho fatto le operazioni inverse della moltiplicazione. Quindi, siamo alla conclusione, però L, densità del liquido per G per L alla seconda per L fa L alla terza, ok? Che è il volume del nostro cubo, questo possiamo indicarlo come il volume. Quindi abbiamo che densità del liquido per il volume occupato del nostro cubo, per G, è esattamente il peso, la forza peso del liquido spostato dal nostro cubo immerso nell'acqua. Ecco il teorema, è sbagliato chiamarlo principio, sulla spinta di Archimede. Ogni oggetto immerso completamente in acqua, riceve una spinta contraria al peso, quindi verso l'alto, pari al peso del liquido che sposta. Quindi immergendolo spostiamo il liquido, il volume che altrimenti il liquido occuperebbe, ok? Se ci fosse in questa zona di spazio, ci fosse il liquido, questo liquido avrebbe un certo peso. E la spinta di Archimede è proprio identica al liquido spostato dal corpo immerso, cioè il liquido che occuperebbe il volume che invece attualmente è occupato dal corpo immerso. Ok? Quindi riassumendo, possiamo dire che la forza di Archimede vale la massa del liquido spostato dal corpo immerso per G, ovvero sia la forza peso che attirerebbe verso il basso il liquido che occuperebbe lo stesso volume dell'oggetto immerso. E' chiaro fin qui? Questo l'avevamo già visto l'altra volta. Questo cosa ci permette di dire? Beh, ci permette di dire che se la spinta di Archimede supera il peso invece del nostro cubo, allora la spinta verso l'alto vince il peso e il corpo viene spinto verso la superficie e quindi galleggia. Quindi il nostro cubo, il nostro oggetto immerso galleggia se, quindi quali sono le condizioni di galleggiamento, deve succedere che la forza di Archimede F.A. supera la forza peso del corpo che abbiamo immerso. Ma la forza di Archimede abbiamo visto che possiamo esprimere come la massa del liquido spostato per G, 981 N fratto kg, mentre Fp è la massa del corpo, quale che sia quello immerso, per G. Qui le due G appaiono a destra e a sinistra, possiamo semplificarle. Diviliamo per G a destra e a sinistra e questo va via. Al posto della massa possiamo pensare di spiegare la densità del liquido per il suo volume, che deve essere maggiore della densità del corpo immerso per lo stesso volume. Ma anche qui il volume è un fattore comune a destra e a sinistra e possiamo semplificare. Quindi un corpo galleggia, morale della favola, se la densità del liquido nel quale è immerso è più grande della densità, almeno densità media, del corpo immerso. Allora ho il galleggiamento. Quindi perché una nave di metallo riesce a galleggiare? Perché in realtà è fatta sì di metallo, ma la densità media della nave immersa è più piccola di quella dell'acqua, perché la più grande parte del volume è occupato da aria. Quindi riesco a far galleggiare una nave di metallo proprio per quella. Così come le navi di legno. Però perché le navi di legno affondano? Affondano perché in presenza di falle, il volume interno che prima era di acqua viene riempito da acqua e oltre alla nave di legno ci sono anche cariche sulla nave, perché la densità media diventa più grande di quella dell'acqua e là la nave affonda. Concludiamo questa parte vedendo che cosa succede dopo che il nostro cubo viene spinto verso l'alto. Quando raggiunge la superficie a una certa quota si ferma. A quale quota si ferma? Si ferma quella che viene chiamata la linea o quota di galleggiamento. Fatemi fare il disegno. Vediamo prima, questo è il nostro contenitore riempito di acqua. E abbiamo, fatemi disegnare esagerando la parte orizzontale, questo è il nostro oggetto immerso, fino a una certa quota. Come faccio a sapere qual è la quota alla quale l'oggetto si ferma? Non sarà tutto fuori dell'acqua, no? Ma l'equilibrio, cioè la parte immersa della barca, della nave o dell'oggetto in acqua, se preferite, la viene fissata dalla condizione di equilibrio, cioè quando la forza di Archimede, dovuta alla parte immersa, è uguale alla forza peso, relativa all'intero oggetto. Quindi qui avremo, per esempio, una superficie di base, supponete che sia, che ne so, un cilindro, S, un'altezza totale H del nostro oggetto, e una parte, chiamiamola HI, che è la parte immersa. Del lato del nostro parallelepipedo, una parte sarà immersa, una parte sarà immersa. Quella sopra possiamo chiamarla anche HE, H immersa. Allora, la spinta di Archimede viene data dal peso dell'acqua che sposto, quindi sarà la densità del liquido, rho L, per il volume immerso, perché ovviamente sposto è solo il volume dell'acqua sotto il pelo dell'acqua, non quello sopra, per G, deve eguagliare la forza peso dell'oggetto, dell'intero oggetto, dell'intera nave, quindi la densità media del nostro oggetto che galleggia, per il suo volume totale, per G. Anche in questo caso, il fattore G è comune a destra e a sinistra, possiamo semplificarlo, e non così il volume adesso, perché attenzione, il volume a sinistra è il volume immerso, mentre a destra è il volume totale. Il volume immerso posso però esprimerlo come la superficie di base del nostro cilindro, o parallelepipedo, per la quota immersa, l'altezza della quota immersa, mentre il V avrò la superficie di base per l'altezza totale. Quindi avremo densità del liquido per superficie di base per la profondità della quota immersa, che sarà uguale alla densità del corpo del nostro oggetto galleggiante, per S e per H. I due S, anche in questo caso, posso semplificarli, e mi rimane l'espressione che determina quella che H indica la linea di galleggiamento. In questo modo riesco a calcolare qual è la linea di galleggiamento, cioè se, semplificando la nostra nave come se fosse un parallelepipedo, conosco la densità del liquido nel quale vado a immergerla, conosco la densità del mio oggetto, densità complessiva dell'oggetto, e quant'è il suo spessore, e so calcolare la quota che sarà immersa. Da questa semplice relazione, la quota immersa, HI, è uguale al rapporto tra le due densità, la densità dell'oggetto e la densità del liquido, per lo spessore e la quota totale del liquido. C'è una domanda? Ma quindi la forza di Archimede, se il solido galleggia è la forza vincolare della forza peso? Non ho capito la domanda. Se il solido galleggia, la forza di Archimede, deve essere la forza vincolare della forza peso? La forza di Archimede non è un vincolo, attenzione, non impedisce il movimento. La forza di Archimede, nel caso sia efficace, nel caso che sia, impedisca l'affondamento, è quella che permette all'oggetto di galleggiare, ma non le permette assolutamente di andare in alto e in basso. Ok? Non è un vincolo. Ci sono altre domande? Molto bene. È chiaro che dalla relazione precedente si vede che se la densità dell'oggetto, della mia nave, è più piccola di quella dell'acqua, ok? HI è più piccola di H e quindi c'è una parte emersa per cui la nave sta sul pelo dell'acqua. Se invece la densità dell'oggetto fosse più grande di quella dell'acqua, HI, la parte immersa, sarebbe più grande di H, quindi la nave va tutta sott'acqua. Ok? È lo stesso principio quel quale funzionano i sommergibili. Perché il sommergibile funziona? Nel sommergibile che il volume del sommergibile è in parte agibile, cioè occupato da aria, ma ci sono delle camere che vengono allagate da acqua oppure svuotate e a seconda di quanta frazione del volume del sommergibile immerso è allagata oppure svuotata dall'acqua con delle pompe opportune, il sommergibile può immergersi oppure può emergere. in relazione alla quota tra la parte immersa e allagata e quella non allagata. Ok? Anche in quel caso bisogna fare attenzione perché il sommergibile può immergersi, sì, ma solo fino a una certa quota proprio per la legge di Stevino, perché se va più in profondità, più che tanto, la pressione locale dell'acqua nel quale si trova può essere tale da schiacciare e deformare la struttura del sommergibile irreversibilmente, quindi ahimè affondarlo. Ci sono domande? Molto bene. Ora passiamo all'ultimo tema di oggi che abbiamo citato in qualche occasione precedentemente, ma l'avevo mai trattato in profondità, che è quello della pressione atmosferica. E' chiaro che c'è pressione in tutti i fluidi, abbiamo parlato sempre di acqua, ma anche l'aria è un fluido e quindi è soggetto a una determinata pressione. D'accordo? Come facciamo a misurare questa pressione? quindi la pressione atmosferica. Beh, utilizziamo anche in questo caso una semplice idea dell'idrostatica, ok? Lo strumento apto a misurare la pressione si chiama barometro e è usato per la prima volta da Torricelli, Evangelista Torricelli, allievo di Galileo Galilei. Ok? E funziona nel seguente modo. Immaginate di avere un tubo di vetro piuttosto lungo, dopo vedremo perché la lunghezza importante, e di riempirlo in violato, fino all'orlo di un liquido molto denso. Uno dei liquidi più densi con cui si può chiamare è il mercurio, la cui sigla chimica è Hg. Perché il mercurio che è un metallo? Perché è l'unico metallo che ha temperatura ambiente e è liquido, quindi può riempire facilmente il nostro tubo. Immaginate di prenderlo, di chiudere la tappa superiore con un dito, proprio di immaginare di chiudere l'apertura, ruotare il tubo e immergerlo in una vasca con un altro mercurio. Qui mettiamo il contenitore di prima, e il nostro tubo rovesciato. Che succede? Beh, di fatto si osserva la seguente cosa. Qui è pieno di mercurio. Il mercurio nel tubo, che è pieno, quindi non c'era aria precedentemente nel mercurio, perché era tutto pieno fino all'orlo, il livello scende fino a una certa quota. In questa regione, ripeto, non c'è né mercurio né aria, quindi qui dentro c'è il vuoto. è uno dei, il barometro di Torecegli, è uno dei primi strumenti che ha creato il vuoto artificialmente, almeno quelli in epoca moderna. Sembra che anche nell'antichità ci fossero riusciti, ma non abbiamo mai mai testimonianze oggettive. Perché il mercurio si ferma a questa quota? Beh, per una questione di equilibrio idrostatico. Abbiamo visto la volta scorsa che in un fluido in equilibrio le parti del fluido sono alla stessa pressione a parità di quota, legge di Stevino. Quindi immaginate un punto che si trovi sulla superficie libera del mercurio e uno che si ha la stessa quota ma alla base cioè internamente al nostro tubo. Questi due punti chiamiamolo quello punto A e punto B sono alla stessa altezza, sono la stessa quota. Quindi la pressione in A è identica alla pressione in B. Ma in A essendo sul pelo libero del mercurio la pressione è identica a quella atmosferica. Cioè quella legata al fatto che il nostro sistema è immerso in aria. Mentre in B abbiamo la pressione legata alla nostra colonna di mercurio perché sopra nella quota libera c'è vuoto quindi lì non c'è niente che faccia pressione o che pesi sullo stato sottostante. Per cui in B la pressione sarà legata la densità del mercurio per la quota del nostro la nostra colonna di mercurio chiamiamola H per di nuovo G. Ok? Quindi a sinistra ho la pressione atmosferica a destra ho la densità del mercurio che conosco posso misurare G che conosciamo se misuro H ho la misura della pressione atmosferica. Di fatto il nostro evangelista Torricelli ha misurato che la quota di mercurio a cui si stabilizza il mercurio nella colonna di destra è di 76 cm 0,76 metri in condizioni standard. c'è una domanda? Certo. E' chiaro il meccanismo come funziona? Ok? Perché usare il mercurio anziché per esempio l'acqua che ne so? Perché è chiaro che per bilanciare per fare in modo che nel punto B la pressione sia la stessa che nel punto A se il liquido ha una densità elevata questo numero può essere piccolo per produrre lo stesso prodotto se invece ho un liquido con densità più bassa H deve essere molto più grande per l'acqua sono quasi 10 metri quindi avere un tubo di 10 metri è possibile però abbastanza seccante dal punto di vista della manovabilità è molto più comodo avere un fluido molto denso. Quindi torniamo al nostro punto la densità del mercurio è 13 mi pare virgola 6 per 10 alla 3 kg al metro cubo è 13,6 volte più denso dell'acqua G è 9,81 N su kg quindi possiamo calcolarci la pressione atmosferica che vale 13,6 per 10 alla 3 kg al metro cubo per 0,76 metri per 9,81 N fratto chilogrammo qui avremo il chilogrammi e i chilogrammi che si semplificano questo va via metri lo abbiamo con questo rimane metri quadri abbiamo un newton su metro quadro che è un pascaio e il risultato abbiamo circa 1,01 per 10 alla 5 newton su metro quadro o se preferite 1,01 per 10 alla 5 pascai questa è la pressione atmosferica quindi su nota bene non è un valore da poco perché su una superficie di un metro quadro immaginate che ne sono un tavolo un po' più grande di questo più o meno su un metro quadro agisce una forza dovuta alla pressione uguale al prodotto di un metro quadro per 1,01 in 10 alla 5 pascai quindi circa 1,01 per 10 alla 5 newton che corrispondono alla forza peso di una massa pari a circa 1,01 per 10 alla 4 chilogrammi 10 tonnellate equivalenti a un paio di elefanti un elefante maschio 2 pesa 6 tonnellate una femmina circa 3 due elefanti piuttosto purpurenti quindi se sul nostro tavolo è come se ci fossero piazzati due elefanti perché il nostro tavolo non si rompe se su io avesse un tavolo di un metro quadro e sulla sua superficie superiore è come se ci fossero a causa della pressione dell'aria due elefanti perché dove mi aspetto che si che si frontumi perché non si rompe secondo voi fatemi fare un disegno così forse sono più chiaro questo è il pavimento qui abbiamo il nostro tavolo la superficie del tavolo è di un metro quadro qui c'è una forza dovuta alla pressione varia a due elefanti perché non si rompe qualcuno qualche idea dopo facciamo una pausa perché è distribuito ma in parte sì ma in realtà perché la pressione non è un vettore è uno scalare perché c'è aria anche sotto il tavolo e qui agisce esattamente la stessa forza perché le due facce superiore e inferiore sono la stessa quota quindi anche sotto c'è la stessa forza che spinge verso l'alto sulla stessa superficie e quindi il tavolo rimane in equilibrio perché non viene non viene soggetto a nessuna differenza di pressione dato che la pressione sopra e sotto è la stessa d'accordo? se invece una delle due parti del tavolo fosse sbilanciata forse avesse una pressione molto più grande subirebbe una forza dovuta alla superficie per la differenza delle due persone come abbiamo visto prima con la forza di Alchimede d'accordo? questo sistema è il barometro di Torricelli ed è un sistema che viene utilizzato normalmente per misurare la pressione dell'atmosferica e chiaramente se tra virgolette il tempo le condizioni atmosferiche cambiano cambia questa quota l'altezza della quota di Mercurio se la quota si alza vuol dire che c'è più pressione quindi se il bel tempo se invece si abbassa la pressione sta diminuendo quindi c'è umidità c'è brutto tempo magari qualche servizio a qualche temporale d'accordo? ci sono domande? no? niente e la pressione ripeto la vedremo anche più avanti perché la utilizzeremo sia quando parleremo della termodinamica cioè tutti i fenomeni legati alla variazione di temperatura sia quando tra non l'anno prossimo ma tra due anni ci occuperemo anche di idrodinamica cioè di cosa succede quando il fluido è in movimento che per adesso abbiamo parlato solo di idrostatica cioè di app di fluido fermo in condizioni di equilibrio ok? se non ci sono domande per oggi ci fermiamo qui ok